Credo che uno studente debba scegliere la rufa prima di tutto, forse perché c'è proprio il clima, come dicevo anche prima, tra noi docenti abbastanza familiare, quindi essendo molti uniti diamo chiaramente un aspetto formativo molto più completo. Abbiamo forse dei numeri anche un po' più circoscritti, questo fa sì che ogni studente è seguito praticamente personalmente sulle esigenze specifiche dello studente. E inoltre l'Accademia, come Accademia delle Belle Arti, noi a differenza forse di molte altre facciamo molti progetti collaterali e quindi ogni singolo scuola, nel nostro caso quella di scenografia, gli studenti hanno modo di fare esperienza attraverso lavori esterni che vengono fatti per l'Accademia e con l'Accademia. Vanno dalle messe in scene, diciamo, di spettacoli, ad installazioni, si partecipa a tanti tipi di avvenimenti, per cui diciamo che i normali corsi di studio sono accompagnati da altri tipi di esperienze che sono più sul campo, che a mio avviso insomma sono fondamentali perché così non rimane solo una teoria ma bensì una vera e propria pratica di quello che è poi l'aspetto lavorativo nella realtà. La prima esigenza è oggi tutto va fatto molto velocemente, per cui simuliamo, se vogliamo, anche delle situazioni d'aula, dei lavori tipo dove appunto c'è magari una richiesta con tempi brevi, quindi devono soddisfare, saper soddisfare la richiesta di un eventuale committente. La parte diciamo teorica delle nostre lezioni è sempre accompagnata da un aspetto appunto pratico, non necessariamente quindi solo ed esclusivamente lo spettacolo ma tutto quello dove noi possiamo applicare il nostro lavoro. Può essere per esempio in un aspetto performativo piuttosto che installativo, quindi di solito lavoriamo anche su altre esigenze, quindi non solo la messa in scena di uno spettacolo diatrale piuttosto che il seguire un cortometraggio o un lungometraggio, ma anche quello che può essere per esempio un'esposizione museale, quindi in un polo museale creare un'installazione e allora è quello lì che chiaramente è sempre diciamo costantemente tutto il ciclo di studi accompagnato da un aspetto proprio lavorativo sul campo. La mia materia, il costume per lo spettacolo, ha sicuramente molte applicazioni non solo nel campo dello spettacolo, quindi al di là del cinema, teatro in tutti i suoi sensi, quindi la danza, il teatro dell'opera, la prosa, è applicabilissima soprattutto ad oggi a quello che abbiamo di esigenze diciamo contemporanee. Pensiamo per esempio alla musica, i video che si fanno per la musica, l'immagine per un cantante piuttosto che anche l'immagine per un conduttore televisivo. Può toccare anche gli ambiti della moda, non proprio come la moda in sé, ma vicina o parallela alla moda.